Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Mi raccomando se anche tu vuoi il pass battaglia gratis di questa nuova season 3 Lascia un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche Inserisci all'interno del negozio oggetti il mio supporto a un creatore R4SCO Per ottenere gratis il pass battaglia perché appena uscirà la nuova season farà una live Dove andrò a givearvi 10 pass battaglia completamente gratis Nel video di oggi andremo a vedere delle giocate pazzesche, davvero folli, da 200 IQ E anche delle giocate terribili da 10 IQ Iniziamo subito questa serie di clip Abbiamo il signor Mila con il rampino Barrett Uuuuh Questo fa male, rampino e Barrett in face Anche lei ha il rampino Vediamo se ci delizzerà con un'altra delle sue... Ok, 200 IQ vs 10 IQ Official Lo sta cercando di portarlo in safe Questo sacco Vediamo se riesce Si nasconde Oh È blastato dal Da un gruppetto di 4 player Che non lo vedono Non lo vedono Genio folle Genio folle Io non l'avrei mai fatto Convinto che il mio amico sulle spalle uscisse fuori E invece Pazzesca giocata Ok, sempre di Barrett Questa è una giocata che adoro Cerco di farla sempre Anche se ogni volta che sparo con il Barrett Poi ribildano e Prende la kill Le giocate con il Barrett Sono quello che adoro Occhio Lanciarazzi È sempre così Instant quit Instant quit Entra Che delizia il Barrett Che delizia Da una parte il Barrett Dall'altra Lanciarazzi Invece no Qui scende Ok Questa è una giocata Che devo fare assolutamente Perché ti permette di entrare in qualsiasi All'interno di qualsiasi box Davvero top Usare il Lanciarazzi Così Abbiamo Barrett Lanciarazzi Oppela Barrett E poi Lanciarazzi Ormai una costante per questo video Attenzione Tenta un edit Che non esiste Vediamo con il paracadutismo Gli gonfia la capoccia Gli gonfia la capoccia Occhio Granatelle tattiche Bellissimo 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 Adoro queste giocate con la granata Attenzione Lanciarazzi per lui Uh Top Top Utilizzato così Lanciarazzi e il Barrett Sono davvero delle armi allucinanti Prova un edit che non esiste No Poverino Attenzione Che pollo Perché non l'ha killato Pensava fosse un bot forse Anche se aveva la minican Se non sbaglio Vediamo Vuole prendere Oh Genio maledetto Gli fa cadere Lo fa cadere Ok no Non prende Ma questo è bravissimo Questo è bravissimo Fast edit Attenzione Questo ragazzo molto Vediamo Probabilmente copre Ci avrei giurato Ci avrei giurato che andava a coprire la jump Lanciarazzi Ho paura di questo lanciarazzi Scrivetemi E siate sinceri qua sotto nei commenti Quante volte siete morti con lanciarazzi Piazza le granatelle Chiude Oh Oh e riesce a killarlo È una salta di giocata come con il lanciarazzi Solamente E qui prende pure la kill Non entro solamente nel box Ok Ha un lutto di armi pazzesco Questo player Pulito come non mai Rampino e pompa Combo perfetta Attenzione 30 life Safe che non esiste E 30 player a life Vediamo che si inventa Prova un edit Prova un secondo edit Barrett a sfondamento E poi goodbye fiorellini GG GG Ok Barrett e lanciarazzi Questa volta però Siamo un po' indietro Perché non c'è il Barrett E invece gli entra comunque Il headshot Headshot come non mai Occhio Qui c'è bot contro bot C'è un bot sulla sua destra Lui non capisce se Mamma mia Genio Fa la corsetta del bot Cioè fa la corsetta dello scagnozzo alla perfezione Vediamo se gli fa la sorpresina Ok Nemmeno lo guarda Credo che l'avversario sia dietro No Deve intervenire Deve intervenire Sì Sì Genio maledetto Attenzione Lanciarazzi Così Ma Lanciarazzi Questa è una giocata pazzi Occhio Lanciarazzi nella porta Ah no Trova un buco sopra la porta Ma non penso che ci passa là dentro Ci passa Sono buildati all'interno di una cupola Oh Genio maledetti Si sono messi sopra il vanno del respawn Eh vabbè Lì è proprio da viscidi Lì è una giocata viscidi Bellissimo Doppio Barrett Sfondamento Occhio col C4 Temo per questo ragazzo con il C4 Vediamo che Goodbye Malava Ok lui ha Diciamo tutto Barrett Rampino E lanciarazzi È un Oh Mio Dio È quasi dentro la tempesta Oh È dentro la tempesta Ora Carica e lanciarazzi Ho paura Non riesce a uscire Usa Usa il piccone Oh no Ok Ottimo Attenzione Classic 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 8000 sforzi per uscire dalla tempesta E poi muore Bellissima giocata Quei baracadudisti Bellissima giocata Ok Ruba la fiocina a tutti quanti Lo va a prendere E dice Quello scildone è mio Chicco Occhio non finisce qui però Probabilmente si è esecuzione finale Ok Nice Video in 16p Attenzione probabilmente avrà registrato questo gameplay dal suo Gameboy Vediamo che cosa si inventa Con la skin di tre biscotto Occhio Serie di evoluzioni Genio 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 Queste cose le voglio fare anch'io Maledetto Oh ma chi è Appena uscito dal suo compleanno Si mette subito a giocare a Fortnite Con un pompa ignorantissimo in mano E si Fa la doppia E' ufficialmente il suo compleanno Andiamo a vedere Successo anche a me Successo anche a me Lo ammetto Sincero Attenzione la skin arc Bellissima questa skin Anche se ha le ciappette leggermente enormi Oh le Così si utilizzano i paracadutisti Questa è la maniera adatta per utilizzare i paracadutisti Attenzione Una copia Forse vuole imbrogliare il nemico Vediamo con il cecco Oh ma questo Sto ragazzo italiano Non so chi era ma era l'italiano mi sembra Ho già visto la sua faccia Che è sottiletta alta Ma chi è Occhio Questi due ci regalano sempre tantissime emozioni Dice prendigli il muro E invece no Lo butta giù Eeeh Emozioni 28 in quella safe che non esiste Qui siamo 84 player Vabbè Qui diciamo che è anche fondo schiena però Possiamo dirlo Ok ruba Mamma mia Fast edit E uuuuh Stanno delta planando all'interno di pantano palpitante O C4 d'esperienza Questo mi sa che è una clip da C4 e ci piace Vediamo Pensavo andava a kill Pensavo a faceare la clip più bella del mondo 150 150 150 150 e si vola 150 e si vola Mamma mia quando c'era il lanciagranate Quante emozioni Chissà se la nuova season 3 Vedremo delle vecchie armi Oppure delle nuove armi Sicuramente nuove armi Penso le vadano ad implementare Anche perché è ora che cambiano qualche cosina Ok sul ponte della morte Bellissimo questa pompata in bocca Probabilmente Morirà ora lui Eh sì Probabilmente morirà Il ponte della morte Lanciarazzi ancora Bella questa kill di lanciarazzi Occhio Ho paura Di questo lanciarazzi Ho sempre il timore Che tra l'altro Frigillaude ha uno scagnozzo Ognuno Quando è il lanciarazzi Diventa pericolosissimo Non per gli altri Ma per la sua vita Paracodist POMPA E Assatto E si va a ballare E si va a ballare Di nuovo sul ponte della morte Nemmeno ve lo dico Che fine farà questo ragazzo Nemmeno ve lo dico Per prendere un pompa Emozione non finita Attenzione La skin di Deadpool Senza maschera Che mi metti I brividi Ma così no Si sta facendo un medikit D'esperienza Penso sia lontanissimo Dalla safe Si rimane malissimo Non so che cosa Si era immaginato di fare Questo qui sicuramente Cecchinata da Quanti metri Non lo sappiamo Ok Granatilla Pulida Come non mai Che bellezza Quando diventano le granate così Che bellezza Ancora non finisce qui Probabilmente Oh Granatelli Massimo E Let's go Barrette per lui Anche Tommy Gun Questo ragazzo Oh Oh mio dio Oh mio dio Che delizia Che delizia Con il cecchino Triplo cecchino E Morto Oh Secondo posto Non so che cosa è successo Qui abbiamo Barrette E Lanciarazzi Probabilmente ci andrà Deliziare di qualcosa Lei si fa esplodere No Genio Barrette E Lanciarazzi Questi sono le giocate Che mi piacciono All'agenzia Due maglia contro Due maglia versus Cerca di scappare A 13 di vita Una granata Due granate Si fa esplodere No Si si fa esplodere Official Oh Qui mi sa che vogliono fare Dei trick Sono due versus due Credo Eccolo qui Il trick Dei sogni Lo prende Lo prende Lanciarazzi Che bellezza Le giocate con Lanciarazzi Sono quelle che mi piacciono Di più Attenzione Tentano di rubagli Il muro Granatina Che va Che va Bellissima giocata Occhio Una ragazza Incantevole E non manca La kill L'autokill Con Lanciarazzi Ovviamente Anche da parte Delle ragazze Delle streamer Occhio Olè Si Grande Si riesce a salvare Oh Un mida oro Ok Kill easy Ha solamente 4 3 colpi Di pompa Probabilmente Una granata Da pazzo Una granata Da pazzo Ok genio Questi due player Ci deliziano Sempre con tantissime Bellissime giocate Occhio Un Arrivederci Roma Si sta deltapanando All'agenzia Occhio Prima faceva l'arbitro Uh 2.62 Con il cecchino Questa Oh Oh Turbo Mamma mia Che pulizia Però quelli così La maggior parte delle volte Muoiono Perché si auto killano Vediamo se è vero Official Ok Vuole prendere il muro Mamma mia Velocissimo Nell'edit È allucinante Questo ragazzo Confermo la teoria Di prima Rage quit Nice Occhio Trappolozza Chissà se arrivano A rimettere le trappere All'interno Della nuova season 3 Occhio E qui va Bello All'interno di pantano Palpitante Qui bisogna capire Quanto è bravura E quanto è fortuna Questo è maggior Questa è sfiga Questa è sfiga Questa è sfiga Sto dicendo Questa la maggior parte È fortuna Attenzione Mappa totalmente Innevata Ci troviamo Bellissimo Questa granata Di esperienza Vai Ma la va Oh Occhio Occhio La cecchinata Che parte Occhio La cecchinata Che parte Cambia bersaglio Non sa quale Dei due Sparare Sparerà Prima o poi Questo ragazzo Spara così A casa Aveva tutti I due bersagli Ora spara a caso È ovvio Una delle cecchinate Più lunghe Della mia vita Occhio Qui ritroviamo Il lanciarazzi Mi stava mancando E si va a killare Il player avversario Con il lanciarazzi Mamma mia Che bellezza Ma ogni volta Che trovo il lanciarazzi Lo droppo Agli avversari Almeno si auto killano A me non succederà mai Oh mio dio Rage quit Addirittura Se ne va Occhio Abbiamo un deathbull Grigio Versus Signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Arriviamo alla soglia Minima di 200 like Perciò se ancora Non avete lasciato like Droppate un bel pollice In su Se siete nuovi Iscrivetevi al canale E attivate la campanina Delle notifiche Noi ci vediamo In un prossimo video E Le stra